In Italia tra 275 e 642 miliardi di fatturato in meno in due anni. E' questa l'eredità del coronavirus secondo uno studio del CERVED, l'agenzia italiana di informazioni commerciali. La ricerca tiene conto di due possibili scenari. Un ottimistico, in cui si immagina che l'emergenza termini a maggio e sia seguita da due mesi di transizione verso il cosiddetto ritorno alla normalità. L'altro pessimistico, in cui l'emergenza terminerebbe a fine anno e sia seguita da ulteriori sei mesi di normalizzazione. In entrambi gli scenari si tiene conto di eventuali interventi di spesa pubblica e a sostegno di imprese e famiglie. Nello scenario ottimistico, le imprese italiane perderebbero 7 punti percentuali e mezzo di fatturato, ovvero circa 275 miliardi, e nel solo Abruzzo fino al 10% di fatturato in meno. Già dal 2021 però vi sarebbe una consistente ripresa. Mentre nello scenario pessimistico, in Italia è a rischio il 18% del fatturato nel 2020, cioè 470 miliardi, e la ripresa del 2021 farebbe perdere comunque ulteriori 172 miliardi, per un totale di 642. Le imprese abruzzesi nel totale arriverebbero a perdere fino al 23% di fatturato. In questo biennio alcuni settori sono destinati a subire un durissimo colpo dall'emergenza coronavirus, tra i più colpiti quello del turismo, dei trasporti aerei, dei concessionari e autonoleggi, di parrucchieri e istituti di bellezza. Se l'emergenza terminasse a maggio, questi settori perderebbero tra il 20 e il 40%, e dal 45 al 75 se questa dovesse trascinarsi fino agli ultimi mesi del 2020. Non tutti i settori però subiranno la batosta del coronavirus, anzi alcuni ne traggono beneficio. Quelli che infatti stanno vedendo un aumento di fatturato sono il commercio online, la distribuzione alimentare dei supermercati, l'industria farmaceutica, quella del gas, la canteristica navale, l'ortofrutta e le lavanderie industriali. Questi settori vedranno un aumento di fatturato tra il 2 e il 30% nello scenario ottimistico, e addirittura fino al 55% se l'emergenza coronavirus dovesse durare fino a fine anno.